l'altra guancia buonanotte ogni d'oro massaggio di questi dinti di legno ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 ti sfido a superare tutti e quattro i livelli di visual trigger saranno uno più difficile di quello precedente e per me i visual trigger sono irresistibili io proprio chiudo gli occhi immediatamente quindi ti sfido a non chiuderli ci riuscirai mi sono messa anche questi orecchini che faranno un po' di suono di sottofondo durante magari i video inoltre posso dire che il soft touching di questi orecchini in particolare già per me è pazzesco cioè non lo so non lo so non mi rilassa non è davanti lo fa qualche carlotte smr sapete quanto io la adoro gli adoro i suoi momenti di legati bene, questo è il livello 0 passiamo al passiamo al livello 1 questo trigger in realtà per me è pazzesco, potentissimo ed è il pettinarti il viso ma prima di cominciare se questo video ti piacerà non dimenticare di mettere mi piace e di dirmi quali di questi trigger ti piacciono di più dimmi anche se lo sfondo un pochino più autunnale ti piace ho messo le foglie autunnali, un po' di candele questo trigger consiste semplicemente in pettinarti pettinarti il viso e a me il passaggio di questi denti di legno sulla videocamera ma è pazzia provo a mettere fuoco qui hai moltissimi nodi sul viso lo sai? andiamo a pettinarti andiamo a pettinarli andiamo a pettinarli si la branca Ok Il gruppo Passo tu Passo su Luisa E passo E pettina Prendo e pettina Prendo e pettina Prendo e pettina prendo e invece su e un po' su e ancora su e ancora su e su e ancora su e su e su ancora un ottimo ok disistiamo ancora leggermente ancora e ci siamo questo se ti piace come trigger lo vuoi cercare lo trovi come combing your face comb è il pettine quindi combing 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 your face prego so che vi piacerà tanto il secondo livello di oggi è un trigger che vi ho mostrato molto recentemente nel mio video perfetto ma che penso di averlo mostrato troppo in avanti con il video e quindi in poche persone ci sono arrivate ma per me è pazzesco cioè è troppo sottovalutato quindi prendiamo uno dei miei aggetti preferiti cioè l'ampollina l'ampollina vado a modificare la messa a fuoco ok e l'amore questo in generale una ampollina vicina all'autocamera non lo so però sono proprio iplodiche no 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 io adesso faccio come dovessi effettivamente applicarti queste ampolline sotto gli occhi perchè tu lo sai stupendo scusate tu lo sai che funzione avrebbero queste ampolline andrebbero raffreddate e messe posate sotto gli occhi così quindi posiamole sotto gli occhi per scompiarti un pochino agli occhi ok molto bene molto bene molto bene e pian piano avviciniamo avviciniamo ecco adoro ok il terzo livello è l'air tracing quindi il tracing su nell'aria quindi ad esempio in realtà scriverò un countdown da 20 a 0 molto semplice l'unica cosa che ti avviso andrò a fare andrò a rendere a specchio il video in modo che tu lo veda nella scrittura nel modo corretto io scusate comunque sono ancora estusiata neanche proprio dal movimento lo sapete ok, bene, andiamo, metto come prima il fuoco, vedrete bene i numeri a fuoco, e cominciamo, ho comunque questi visual trigger così, ho comunque questi visual trigger così vicino, vicino al viso, vicino, vicino al viso, anche queste mi piacciono tanto, ditemi se ti guarda essere un prossimo video, che io vi leggo sempre, sempre, sempre nei commenti, sempre, sempre, sempre nei commenti, da venti a zero, da venticinque, ok, venti cinque, venti cinque, 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 venti, quattro, venti, quattro, 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 venti, tre, 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 venti, tre, tre, venti, due, due, ventuno, venti, 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 venti venti diciannove diciotto otto dicio sette sedici sedici quindici quindici quattordici tredici dodici undici un dieci i dieci 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 nove nove n o vi e o to set te sei 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 cinque quattro tre due uno zero 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 z i r o zero 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 questo mi piace da matti passiamo all'ultimo il doppio brushing il mirror brushing che cos'è? è un brushing uguale su di me e su di te ad esempio andiamo sul sobracciglio sulla fronte sulla fronte sulla fronte sulla fronte sulla guancia l'altra guancia il mento il mento il naso il mento il mento il naso tutto il viso tutto il viso tutto il viso tutto il viso quindi copro ciò che faccio sul mio viso facendolo sulla videocamera quindi facciamo così lo faccio a me e poi lo faccio a te il mio naso il tuo naso il tuo naso la mia guancia la tua guancia la tua guancia la tua guancia labbra labbra lati del viso lati del viso e lati del viso così riesci di perfettamente immaginare e percepire dove io ti stia aggarezzando con il pennello dei suoi lati qui sulla fronte vado all'inizio la fronte naso bocca mento e collo e torno su collo bocca naso fronte ok ok comincio sopra e vado molto lentamente su tutto 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 il viso ok e poi torno piano piano su e ancora giù e piano piano su ok e adesso ho fatto un po' di brushing anche a te dimmi se avrai superato tutti questi quattro livelli le scommetto di no ma dimmi e io penso proprio penso proprio penso proprio 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 si aggiunta l'ora di 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 a passare le luci le luci e augurarti 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 una buona 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 notte da 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 sonidor sonidor con nines sweet dreams buenas noches dulces sueños buon nuit buon nuit buon nuit vedete show your herb scusate per le linguazze gutenacht le canocht le canocht le canocht fare un attimo piccoli pasticcini al caffè un bacione pook 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 que ne espera y pn i pn who